E allora a questo punto mi sono trovato dinanzi ad un'alternativa. Ho detto o a questo punto piego la testa, o me ne vado da Taranto, o reagisco, mi candido perché voglio diventare il sindaco di questa città per prendere in mano questa città, per cercare di svegliare le coscienze, per gridare il sacrosanto diritto alla vita. Vedete come si fa a parlare di vita a Taranto, come si fa a parlare di turismo a Taranto quando poi un report delle Nazioni Unite pone Taranto tra le tre città più inquinate al mondo, come si fa a parlare di turismo, come si fa a parlare di diritto alla vita in questa città. In questo incontro di stasera io non voglio solo criticare gli avversari politici, sarebbe molto ma molto facile, peraltro stiamo parlando del nulla cosmico, del nulla assoluto, di gente che fa solo corse verso le poltrone, ma voglio illustrarvi anche il mio programma. Io parlo di chiusura dell'Ilva senza se e senza ma, e lo dico senza tema dismentita, perché quella fabbrica uccide, uccide all'interno ed uccide all'esterno. Ho sul palco, qui a fianco a me, i genitori del povero Angelo Fuggiano. Nel 2018 un colpo di fune, lui era di spalle, sbalzò il povero figliolo giù dalla gru comportando questo tragico evento, la morte di un ragazzo, di un giovane di 27 anni. Questa è una fabbrica assassina, questa è una fabbrica assassina che uccide dentro ed uccide fuori, va chiusa senza se e senza ma. Una fabbrica che uccide con la complicità delle istituzioni. Dove stanno le ordinanze di chiusura? Ex sindaco Melucci, tu hai fatto un'ordinanza che non aveva né capo né coda, avresti dovuto fare mille ordinanze per ogni sforamento. Te ne devi andare a casa, te ne devi tornare nella tua Crispiano, perché non sei tarantino, taranto ai tarantini. E in questo quadro la Regione, il Presidente Emiliano, il Governatore Emiliano ha detto, signori cari dovete aspettare la decarbonizzazione e dovete pazientare almeno altri dieci anni. Cosa significa questo, caro Emiliano? Giù le mani da taranto, altri dieci anni significa dieci anni di tumori, di morti all'interno e all'esterno dello stabilimento. Andate a vedere il reparto oncologico, andate a vedere le sedute di chemioterapia, di radioterapia e vi renderete conto. Quando qualcuno dice, ma se l'ILVA chiude dove andiamo a mangiare? La risposta è molto semplice. Ci sono 30 anni, dico 30 anni di lavori per chi oggi lavora all'interno dello stabilimento e come dipendente diretto di Acciaierie d'Italia e come dipendente dell'appalto, dell'indotto. 30 anni di lavoro. Domanda, ma scusate, potrebbe dirmi qualcuno, e chi ci mette i soldi per pagare per 30 anni i lavoratori? Lo Stato, sì, lo Stato, perché lo Stato ogni mese a fondo perduto getta, getta, strappa come fossero corriandoli. 50 milioni di euro, 50 milioni di euro per 12 mesi, sono 600 milioni! Quante bocche sfameremmo? Quante bocche sfameremmo? Quanti bambini non sarebbero ammalati di cancro? quante persone non sarebbero sepolte al San Brunone? Quante mamme, quanti papà non piangerebbero i propri figli? Questa è la risposta che dobbiamo dare a Taranto e che il signor Melucci non vuole dare, altrimenti avrebbe fatto mille ordinanze di chiusura. Io da sindaco le farò uno dietro l'altra e voglio vedere cosa farà lo Stato a botta di decreti, voglio vedere cosa dovrà fare lo Stato, i vari ministri, verranno a piangere avanti e dietro a Taranto, non ci sarà salvezza per nessuno, perché fino a prova contraria esiste l'articolo 32 della Costituzione che parla di diritto alla salute e fino a prova contraria Taranto non è stata esentata dal godere del diritto alla vita, del diritto alla salute. Questo è il quadro di Taranto, perché quando l'ordinanza dell'ex sindaco Melucci è stata rigettata, beh è molto chiaro, il Consiglio di Stato è stato chiaro, caro sindaco ha detto in buona sostanza, tu hai evidenziato tre punti che erano di poca importanza, ben diverse erano le ragioni del Tar, con le quali ragioni le lagnanze di Arcelor Mittali, insomma dell'industria assassina sarebbero state completamente cancellate e ribaltate. E allora vivere di cosa si potrebbe dire? Vivere di risorse naturali, vivere di mare, vivere di turismo, vivere di economia del mare, quell'economia del mare che ruota intorno alla maricultura, alla piscicultura, a ogni tipo di sfruttamento del mare, alla mitiricultura, sono tanti i mitiricoltori presenti appunto qui in questa piazza.